Buon venerdì! E' il momento, ci volevo ogni tanto ve lo propongo, un bel esercizio di goniometria. Dunque qua ci dicono se la radice di 2 cos x vale uguale a cos y più cos cubo y e se la radice di 2 per il seno di x è uguale a sen y meno sen cubo di y ci chiedono di calcolare quanto vale allora il seno di x più y. Bene, divertitevi, a me gli esercizi di trigonometria e di goniometria mi fanno impazzire letteralmente. letteralmente, l'avete notato, vado pazzo, è una delle mie branche preferite della matematica. Allora, ci chiedono il seno di x più y, beh subito mi viene in mente di applicare la formula della somma, la formula di addizione del seno. Beh, il seno di x più y, intanto scriviamolo chi è, lo possiamo scrivere, lo scriviamo qui, ve lo ricordo, è seno di alfa più beta, ovviamente di x e y, qui stiamo parlando di angoli. Il seno di x più y è sen x cos y per la formula di addizione del seno più sen y cos x. E' evidente allora che dobbiamo, da quello che può essere considerato un sistema, no? E quindi da quel sistema lì, dobbiamo necessariamente tirarci fuori quanto è il seno di x, quanto è il seno di y, quanto è il coseno di x, eccolo qui, e quanto è il coseno di y. Quindi dobbiamo tirarci fuori questo. Allora, diciamo che per il momento questo lo possiamo dire. il problema, adesso ovviamente immagino che voi abbiate messo in pausa, come al solito. Ditemi come avete fatto. Dunque io a questo punto lavorerei su queste due equazioni che andrei a legare fra di loro, vediamo. Intanto la presenza di quella radice mi induce a elevare al quadrato ambo i membri di entrambe le equazioni. e quindi scrivere che 2 cos quadro di x è uguale a, allora, quello lo scrivo come il quadrato del primo, cos quadro di y, più coseno alla sesta di y, più due volte cos quarto di y. Stesso discorso lo faccio nell'equazione di sotto, facendo un 2 sen quadro di x uguale a il quadrato di quel binomio che è sen quadro di y, si potrebbe anche raccogliere se in y ha fatto il comune qua, e così se in y ha fatto il comune è uguale. Andiamo a fare i quadrati, questo è un seno alla sesta di y, meno questa volta due volte sen quarto di y. A questo punto però mi viene in mente di fare una cosa. Sommo le due equazioni, perché io mi ricordo che intanto vedo, la intravedo, la prima relazione fondamentale della trigonometria, che è secondo cui sen quadro x più cos quadro di x è 1, o anche sen quadro y più cos quadro di y è 1. Quindi sommo queste due, e se le sommo, allora qui mi verrebbe 2 cos quadro di x più 2 sen quadro di x, che è 2. Quindi sommando viene un 2 uguale cos quadro di y più sen quadro di y, e lo metto è 1, più, allora abbiamo un 2 cos quadro di y meno 2, scusa, 2 cos quarto di y meno 2 sen quarto di y, l'ho scritto ma l'ho letto male, più cos sesto di y più sen sesto di y. Non è difficilissimo questo esercizio. Allora, poi qui continuo e scrivo che 2, allora, è uguale sicuramente a 1 più, raccolgo tra il secondo e il terzo addendo di questo membro di destra, un 2 fattore comune, e scrivo 1 coseno alla quarta di y meno seno alla quarta di y più, dunque cos sesto e sen sesto, mi potrebbero ricordare l'inizio dello sviluppo del quadrato, del cubo di un binomio. Dunque io mi ricordo che, in generale, se io scrivo a sesto più b alla sesta più, allora, sto parlando del cubo di a più b, direi meglio di farlo a più b, non a meno b, perché poi magari viene fuori la relazione fondamentale della cronometria anche lì. Dunque a più b al cubo è, a più b al, ovviamente qui è, di cosa sto parlando? Sto parlando di a quadro più b quadro al cubo, ovviamente. Che cosa voglio dire? Allora abbiamo, il quadro del primo è a quadro al cubo, 2 per 3, 6 a sesto. Il cubo del primo, chiedo scusa, è a quadro al cubo, che è 2 per 3, 6 a sesto. Il cubo del secondo è b quadro al cubo, 2 per 3, 6 e b sesto. Andiamo a fare il triplo prodotto del quadro del primo per il secondo, che rimane così, più ancora il triplo prodotto del quadro del secondo per il primo, che rimane così. tenete conto che questo diventerebbe ancora un a sesto più b alla sesta e qui si potrebbe raccogliere, guardate, ha fatto il comune, un 3 a quadro, b al quadrato, che moltiplica, guardate un po', a quadro più b al quadrato. Questo se al posto, se al posto di cos quadro, di y, e se quadro di y, ci mettiamo a quadro di b quadro, ma a questo punto è la stessa identica cosa, perché qua scriviamo, guardate, ovviamente aggiungo e tolgo, che cosa voglio dire? Voglio dire che, qui intanto è una differenza di quadrati e al passato successivo lo andiamo a lavorare, cioè lo andiamo a spazzolare. Qua abbiamo un coseno alla sesta di y, più un seno alla sesta di y, poi andiamo avanti, guardate, abbiamo un 3 volte, seguiamo la notazione, 3 volte cosquarto di y, sen quadro di y, più ancora 3 volte cosquadro di y, sen quarto di y. Ovviamente, questo qui lo prendo, l'ho aggiunto e lo tolgo, meno 3 volte cosquarto y, sen quadro y, meno 3 volte cosquadro y, sen quarto y. ragazzi di scuola, soprattutto, occhio a questi giochetti, che magari in qualche compito in classe, no? Tricolometrica e passione, qualche docente, qualche professore di scuola ve lo propone. Questo l'ho detto, la lasciamola ancora un attimo, quindi abbiamo ottenuto che, lo scrivo qua sotto, 2, è uguale a 1 più, 2 che moltiplica, guardate, cosquarto y, meno sen quarto y, lo scrivo come? Cosquadro y, meno sen quadro y, a quadro meno b quadro, per a quadro più b quadro, quindi per cosquadro y più sen quadro y, che poi vedremo è 1 per l'ennesima volta, più, ripeto, questo qui, adesso guardate, questo qui, è appunto tutto questo, è un cosquadro y, più un sen quadro y al cubo, l'abbiamo detto, e qui mettiamo a fattore comune un, meno 3, cosquadro y, sen quadro y, vediamo che la lavagna ci arriva, e guardate cosa ottengo, ottengo ancora una volta, un cosquadro y, più, un sen quadro y, uno dice, ma come fai a sapere tutto questo, come l'hai fatto? Beh, ovviamente ho provato, non è impossibile, allora, cancello tutto quanto, sperando di non aver sbagliato, sto facendo in apnea, molto veloce, ma non è difficile, ripeto, allora, subito, questo è 1, questo è 1, e questo è 1, allora abbiamo che il tutto diventa 2 uguale, ancora, 1 più 2 che moltiplica, dunque, in un'altra formula, chiamata formula di duplicazione del coseno, io mi ricordo che il coseno di 2y, è proprio cosquadro y, meno sen quadro y, invece mi ricordo che la formula di duplicazione, questa è del coseno, questa è del seno, invece è 2 volte, sen y, cos y, attenzione, utilizzo la prima, quindi al posto di cosquadro, non lo so in quadro, ci metto 2 uguale a 1 più 2 volte, coseno di 2y, occhio alle parentesi, coseno di 2y per 1, è coseno di 2y, più, attenzione, 1, allora qua guardate, 3 per 1 è 3, quindi meno 3, meno 3 che cosa? Allora, eleviamo al quadrato, i due membri di questa seconda equazione, in forma di duplicazione del seno, ottenendo che il seno al quadrato di 2y, è sicuramente pari a 4 volte, sen quadro y, cos quadro y, allora dividendo per 4, ho ottenuto che cos quadro y, sen quadro y, o sen quadro y, cos quadro y, che è questo, chi è? e un quarto sen quadro di 2y, quindi questo è meno 3 quarti, sen quadro di 2y, guardate, 1 più 1, 2, che per la regola di cancellazione si va con quel 2 là, guardate che cosa ottengo, ricordando che per la prima relazione fondamentale, della goniometria, sen quadro di y, lo posso scrivere come 1 meno cos quadro di 2y, se il sen quadro y è 1 meno cos quadro di 2y, se il sen quadro di 2y sarà 1 meno cos quadro di 2y, e pertanto ottengo che 2, coseno di 2y, meno 3 quarti, che moltiplica, al posto del sen quadro di 2y, ci metto 1 meno cos quadro di 2y, uguale da 0 ovviamente, moltiplico per 4 da una parte all'altra entrambi i membri, e sciolgo quella parentesi, avete visto tutto quello che ho fatto, tutte cose che dovreste conoscere, naturalmente in maniera direi, come posso dire, così come prerequisiti, se qualcuno sta preparando, può utilizzare questo video come prerequisito, 3 volte cos quadro y, che io scusate, quadro di 2y ovviamente, dunque 3 volte sì, più 8 coseno sempre di 2y, occhio che siamo nella variabile 2y, cioè nell'argomento del coseno 2y, meno 3 uguale 0, risolviamo, questo per il momento non ci serve più, ovviamente poi ci potrebbero servire quelle, dunque, cosa posso fare? beh, posso fare 3 per meno 3, insomma questo lo scrivo come 3, dunque, diciamo in generale, io se avessi un 3a quadro, più 8a, meno 3, uguale a 0, vi ricordo che questo lo posso scomporre in 3a quadro, più 9a, meno a, 9a meno a è 8a, meno 3, uguale a 0, e quindi questo raccogliendo in maniera parziale, 3a, in evidenza, ho un a più 3, qua raccolgo un meno 1, qua ho un altro a più 3, e quindi ho che in definitiva, se a è il mio, ovviamente coseno di 2y, questo lo scrivo come 3, coseno di 2y, meno 1, per 3, coseno di 2y, più 3, è così? E ve lo confermo, no, ovviamente coseno di 2y più 3, non 3, sono 3 solo, ok, tutto uguale a 0, legge di annullamento del prodotto, io vi ricordo che questo qui lo possiamo eliminare, dunque il coseno di 2y più 3 è uguale a 0, quando il coseno di 2y è uguale a meno 3, ma un coseno non può mai essere uguale a meno 3, perché il coseno o vale meno 1, o vale 1, o ho i valori in mezzo tra meno 1 e 1, ma non può valere meno 3, quindi questo fatemelo levare, ho ottenuto in definitiva che il coseno di 2y è uguale a un terzo, coseno di 2y è uguale a un terzo, ottenuto questo, io andrei a elevare al quadrato, da una parte e dall'altra, perché lo faccio? Dunque io in questo caso, mi posso trovare, da coseno di 2y, mi posso trovare il seno di 2y, dunque il coseno di 2y è un terzo, il seno di 2y ovviamente, è più o meno, la radice quadrata di 1 meno cos quadro di 2y, mi sembra abbastanza evidente, quindi se il coseno di 2y è un terzo, il seno di 2y sarà più o meno la radice quadrata di 1 meno un nono, 9 noni meno un nono è un 8 noni, quindi più o meno radice di 8 noni, ma ovvero più o meno 2 terzi radica al 2, va bene? Quindi ho ottenuto che il coseno di 2y è un terzo, fatemelo scrivere bene, il seno di 2y è più o meno 2 terzi radica al 2, ma per la formula di equazione del coseno, l'abbiamo già detto, il coseno di 2y chi è? è cos quadro y meno sen quadro y, o anche ad esempio 2 cos quadro y meno 1, o anche un 1 meno 2 sen quadro y, a seconda delle esigenze, e quindi siccome quello l'abbiamo fatto, possiamo anche ottenere da qui che, da qui otteniamo che il cos quadro di y, questa è una cosa che abbastanza nota, è 1 più il coseno di 2y tutto diviso 2, siccome quello è un terzo, viene un terzo più 3 terzi, che 4 terzi viene 4 sesti, quindi abbiamo che il coseno di y è più o meno radice di 4 sesti, cioè abbiamo più o meno 2 fratto radici di 6, faccio notare che 2 su radica al 6 è un 2 radical 6 su 6, più o meno radica al 6 terzi, più o meno radica al 6 terzi, stesso discorso, lo ripeto per il seno, il seno di, o meglio, guardando la seconda, quindi coseno di 2y è uguale a 1 meno 2 sen quadro y, chi è? ottengo, guardate che il sen quadro di y, è ovviamente un 1 meno il coseno di 2y, mezzi, allora quello è 1 meno un terzo, ovvero un terzo viene fuori, sen quadro y è uguale a un terzo, ma potrei anche farlo così, e otteniamo quello, o anche, molto semplicemente, chi è sen y? sen y è più o meno, sarebbe la radice quadrata, più o meno, di 1 meno cos quadro y, allora più o meno, radice quadrata di 1, meno 6 noni, 9 noni meno 6 noni, e un 3 noni, viene un radice di 3 terzi, che poi era quello che stavo ottenendo qui, radice di 1 terzo, radice di 3 su 3, bene, fatto questo, a questo punto, guardate, abbiamo una parte di questa relazione qui, ci mancano sen x e cos x, che possiamo ottenere da lì, la radice di 2 cos x, pertanto, è un cos y, che moltiplica, guardate, un 1 più cos quadro y, che in realtà poi abbiamo, così come nella seconda, otteniamo che radice di 2 sen x, è un sen y, attenzione, per 1 meno sen quadro y, volendo si poteva magari farlo in maniera diversa dall'inizio, ma ricordo che questo qui è un sen y cos quadro y, perché 1 meno sen quadro y, ovviamente cos quadro y, se vediamo i valori, guardate, vediamo che radice di 2 cos x dalla prima, vediamo chi è, cos y è più o meno radice di 6 terzi, che moltiplica, se cos y è quello, cos quadro y è 6 noni, quindi 1 più 6 noni, guardate qui invece cosa viene, questo è uguale a sen y, che è più o meno radical 3 su 3, cos quadro y, abbiamo già detto, è 6 noni, facciamo i conti, allora abbiamo trovato che cos y e sen y sono rispettivamente più o meno radical 6 terzi e più o meno radical 3 su 3, coseno di x, lo scrivo qua, e vediamo chi è il seno di x e vediamo chi sono, e poi andiamo a mettere là, coseno di x, allora, radice di 2 cos x, terminiamo qua, qui verrebbe un 15 noni per più o meno radical 6 su 3, sarebbe così, perché sarebbe 9 noni più 6 noni, qui semplicemente è un più o meno, questo è 2, più o meno 2 radici di 3 noni, quindi posso già dire che sen x, ovviamente è un sen x, lo scrivo qua, è 2 radical 3 noni, ma non dimenticare, diviso radici di 2 per 1 su radical 2, ma 1 su radical 2 è radical 2 su 2, 2 e 2 se ne vanno, un nono radici di 3 per radici di 2, che sarebbe un nono radical 6 col più o meno davanti, più o meno radical 6 noni, e invece il seno di x, vediamo il coseno, dunque il coseno abbiamo che qua 3 è uguale a 5, occhio che viene quindi, lo scrivo qua, che il coseno di x è più o meno 5 radical 6 noni, per però, 1 ho fatto radical 2, ovvero radical 2 su 2, ma tenendo conto che questo quindi è un più o meno, 5 diciottesimi, radical 6 è radici di 2 per radici di 2, che è 2 radical 3, e allora questo è un nono, più o meno 5 noni radical 3, e ve lo confermo assolutamente, più o meno 5 noni radical 3, più o meno 5 noni radical 3, sì, così, più o meno 5 noni radical 3, e allora in definitiva vediamo il seno di x su y, come mi comporto con questo più o meno, beh allora accolgo ragazzi, perché avrei un, guardate, più o meno seno x, più o meno radical 6 noni, per cosi y, per più o meno radical 6 terzi, più sen y più o meno radical 3 su 3, per più o meno, così, 5 radical 3 noni, ok? più o meno, lo raccolgo, quindi ho un più o meno a monte, questo è uguale a più o meno, aperta quadra, dunque, radical 6, per radical 6 è 6, 6, 27, più, radical 3, per radical 3 è 3, per 5 è 15, 27, 27, più o meno, 21, 27, visto che sia 21 che 27, sono semplicati, sono divisibili per 3, più o meno, ve lo confermo, la domanda è più o meno 7 noni, questo ci chiedeva questo esercizio, non un po' banalissimo di, di un'onometria elementare, la nostra passione, fate un bel like al video, se vi è piaciuto, continuate a iscrivervi, qui a sinistra mi raccomando, iscrivetevi, non perdetevi più tardi, il video di Silvia, lezione di meccanica razionale, a venerdì prossimo, e a domani con la diretta, con la live, ciao! Grazie a tutti!